Questa sarà la casa della gioia, pronta a raccogliere chi bussa alla porta e il nostro gioiello più prezioso. Con queste parole il Vescovo di Summona Valva, Monsignor Michele Fusco ha inaugurato questa mattina a casa Zaccheo l'opera segno della diocese di Summona Valva per chi non ce la fa. La vera carità quella che non si fa a chiacchiere ma con i fatti. Una casa a tutti gli effetti che dispone di tutti i comfort perché chi si trovi stato di necessità possa essere ascolto. Dagli uffici della Caritas la cappella realizzata da un volontario con materiale di recupero fino ad arrivare a un emporio della solidarietà per la distribuzione di cibo e altri generi di prima necessità, servizio docce, lavanderia e guardarobba, mentre il dormitorio da otto camere per dodici posti letto divisi fra donne e uomini è collocato al primo piano. La novità vera, come ha spiegato il direttore della Caritas diocesana Gianni Cruciani, consiste nell'attivazione della mensa serale che avverrà a partire dal lunedì prossimo e si affiancherà a quella giornaliera aperta già dalle 12.30 alle 13.00. Certo, questa è una notizia fresca, fresca anche per me perché finalmente ci siamo riusciti ad organizzare, questa è una cosa che stiamo inseguendo da mesi e siamo riusciti ad entrare in contatto con un'azienda che offrirà questi pasti monouso e quindi ce li porterà da lunedì e ci porterà alcuni passi, abbiamo già avvisato anche chi ne potrà usufruire per eventualmente venire a mangiare anche la sera. Vuole essere in questo tempo di difficoltà, di crisi, un segno di speranza, un segno dove fratelli nostri che vivono una situazione più di difficoltà, una situazione di precarietà possano trovare casa, possono trovare persone accoglienti, una chiesa che apra le porte e faccia sedere a tavola, faccia sentire a casa i propri fratelli. La struttura che sorge sull'ex casa dello studente che dall'avvio del cantiere del 19 novembre 2016 sarà demolita per fare spazio alla nuova residenza antisismica con tanto di terrazzo e orto esterno è costata 762.000 euro, 500.000 dei quali arrivati dalla CEI, il resto dalle donazioni dei privati e dall'otto per mille. Al tagliare il nastro della nuova struttura assieme al pastore diocesano anche il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e il direttore di Caritas Nazionale Don Francesco Soddu che ha preso parte al convegno al centro pastorale diocesano coordinato dall'operatrice Caritas Francesca Orsatti alla presenza anche dell'arcivescovo di Pescara Penne Monsignor Tommaso Valentinetti.